Ehi, siamo qui, stiamo rispondendo ad altre domande interessanti, perché è bello che le domande siano interessanti. Non devo fare questa cosa, mette paura la gente, soprattutto mette paura a me, sì, per le corde vocali e la questione. Comunque sì, a questo che vedete in sottofondo adesso è Handling Extinction is Forever, che è un giochino un sacco chill, che oddio, oddio, chill, l'art style forse lo è, però va bene, ne parliamo tra un po'. L'ho anche già finito, perché dura abbastanza poco. Still, siamo qui per rispondere alle domande interessanti, quindi interessiamo. A Well, qual è il tuo videogioco ideale? Questa è una domanda che mi riserverò, penso, per un'altra volta, forse per un video intero, perché se comincio adesso è possibile che parto e non mi fermo più per diverso tempo. Quindi sì, meriterebbe proprio uno script appropriato, diciamo. Conoscendomi, ammesso che mi conosciate, iscrivetevi maledetti. Non posso definirmi appassionatissimo, ok, di game design, però essendo molto curioso, comunque sia, per un sacco di volte la mia mente ha prodotto delle cose che mi sono addirittura dovuto segnare da qualche parte. Infatti, se le ritrovo, prima o poi le citerò, in qualche modo. Però non spoileriamo nient'altro. Comunque sia, guarda i volpini che carini. E' piccoli. Piccolini. Vabbè, lasciamo stare. Cose che mi fanno salire la hubris e dire, ah, sono veramente un dio, io dovrei essere un game designer di professione, che cosa state aspettando a contattare? Ma io non ho fatto game design, quindi, eh, così. Ho fatto solo due Half-Fast giochi di ruolo da tavolo, ma, da tavolo, finti in realtà, ma ok, andiamo avanti. Qual è il libro, o fumetto, non giudico, che più ti è piaciuto? Ho già risposto a questa domanda nel secondo episodio della stagione scorsa. Ammesso di poterla chiamare stagione, ma comunque sia, c'è quell'altra. Quello che ti ha deluso di più, invece, questa mi sa che non c'era prima, o sicuramente io non ricordo di averne parlato, è, che dire, essere delusi da qualcosa ha come prerequisito che prima ci sia stata un'aspettativa di sorta. Io, effettivamente, non ho avuto sempre aspettative elevate leggendo dei libri, ok? Non posso neanche essere mai definito lettore accanito, non ho letto tantissimo, onestamente. Però l'aspettativa che avevo sviluppato una volta su questo libro sicuramente sì, lo rende un ottimo candidato per la risposta a questa domanda. Un sacco di anni fa, quando andavo in primo liceo, il consiglio di lettura, anzi, tra i consigli di lettura delle vacanze estive, c'era questo libro di Alessandro D'Avenia, tale Bianca come il Latte, Rossa come il Sangue, che un sacco di gente non si ricorderà più, un sacco di gente non sa chi sia Alessandro D'Avenia, anche se comunque un po' di cose la scritte, vabbè, sorvoliamo, facciamo così, sorvoliamo. L'aspettativa che avevo maturato nei confronti di questo libro era fondamentalmente quella di un libro effettivamente molto carino, molto bello, poetico addirittura, che parlava di certe cose come l'amore, la crescita, la malattia, ecco. Anche, e che malattia soprattutto, perché si parla di leucemia, in un modo così toccante, così poetico, poetico toccante, così stringente, ok? Quindi consigliare, insomma, dei ragazzi di 14 anni sembrava anche una bella cosa, una bella opzione. Peccato che poi all'interno del libro, ecco, all'interno, in realtà forse più verso la fine, forse proprio la fine, le parti finali, non vi sto consigliando di leggere Bianca come il Latte e Rossa come il Sangue, non lo consiglierei a nessuno, onestamente, però posso consigliarvi di vedere il video di Alex Ignazio93 su Bianca come il Latte e Rossa come il Sangue, di cui mi sono ricordato, tipo, un secondo prima di fare la preview di questa domanda, e mamma mia, quel video, sì, assolutamente, c'è una parte che ricordo con estremo amore, quando il maestro prende il libro, legge una frase, lo chiude e lo lancia per la cretinaggine che c'era scritta lì, e non è stata peraltro neanche una delle cretinaggine che mi hanno fatto tirare a me il libro anni fa quando l'ho letto, perché per tutto il tempo c'è questo build-up, in pratica, su sto ragazzo qua di 14 anni, 15 anni, 16 anni, non mi ricordo neanche più, che per tutto il tempo dice, ah, sono innamorato di questa che sta male, vabbè, ma io sono forte, devo essere forte come un leone perché il mio nome è Leo e io sono Leo, Leo Leonis, infatti diceva anche questa, ci metteva in mezzo anche il latino, e in mezzo al libro, peraltro, avevo anche trovato modo di identificarmi lui perché ragionavamo alla stessa maniera, eravamo, eravamo kindred spirits, si potrebbe dire, anche e soprattutto per il fatto che menzionava di avere un poster dei Green Day, e io non avevo un poster dei Green Day, c'aveva mia sorella, però li sentivo ovviamente, erano la mia band preferita per un certo periodo, anzi diceva propriamente che per sfogarsi lanciava tipo una pallina al muro, e la mano del cantante dei Green Day era diventata tipo livida per questa cosa, una cosa del genere, e poi dopo che sempre per sfogarsi sentiva i Linkin Park, quindi, oh sì, l'altra mia, la vera mia band preferita, oh mio Dio, sì, siamo uguali, e poi niente, poi comincia una spirale discendente di cretinate, vabbè, spoiler, saltate i prossimi, non so, 15 secondi, comparirà a schermo un importante timestamp se volete saltare questa cosa sul finale del libro, perché sono un signore, incredibile, sono ancora un signore dopo tutto, lui per tutto il tempo la tiritera su, ah, Leo, Leonis, eccetera, e poi alla fine del libro, forse nell'ultima pagina, una cosa del genere, se ne esce con la sua migliore amica che lo chiama Leonardo, e lui, perché io sono Leo, ma il mio nome è Leonardo, ma vaffanculo, io non ho lanciato fisicamente il libro, in realtà, però la mia testa sì, c'era come altro consiglio di lettura quell'anno, 1984, avrei dovuto leggere 1984, rafforzarmi un pochino, perché avevo provato a leggerlo, ma non mi stava aggarbando, e poi alla fine non neanche più ho recuperato, infatti consiglio di lettura anche per adesso, i miei scompensi, ecco, si sono verificati nuovamente, allora qua, insomma, parlando con altre ragazze che avevano letto il libro, o anche mia sorella che l'aveva letto esattamente dopo di me, perché ce l'avevamo lì a casa, dicevano tutte, ah, è bellissimo, è bellissimo, io, vabbè, sono rimasto, sì, interdetto molte volte, comunque sia, per parlare di cose un po' più piacevoli si fa per dire, Handling Extinction is Forever, e è un gioco abbastanza toccante, è sicuramente più toccante di bianca come il latte rossa come il sangue, in cui sei una mamma volpe che deve proteggere e far sopravvivere, per l'appunto i suoi volpini, i suoi cucciolini piccolini, sono dei topetti, guarda quanto sono piccoli, belli, non fanno questo verso, sono, fanno più dei piccoli latrati, perché le volpi un po' latrano, sì, non fanno ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, chi capisce questa reference, vi prego, non scrivetelo, non voglio più sentirlo, li ho chiamati Matisse, Bizet, Minou e Bergentrucung, questo è Bergentrucung, guarda che bello, no, 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 Bergentrucung, no, no, l'avevo già registrato, ero preparato a questa cosa, sì, poi guarda che stronzo, gli odori non dorano per sempre, gli odori, lui, perché questa scia viola, questa scia fucsia così, che poi puoi seguire alternativamente in alcuni giorni, è quella di Bergentrucung, è quella del, del volpino scomparso, piccolo, quindi è un gioco, non posso dire proprio survival, però ha delle meccaniche survival, quindi appunto i cucciolini, i volpini che ti porti, dopo ti porti, dopo questo momento, praticamente, hanno una barra della fame, quindi tu devi nutrirli, devi preoccuparti di procacciarli anche un po' del cibo, altrimenti rischiano grossissimo, rischiano di morire, infatti si può arrivare alla fine del gioco, non con tutti i volpini, anche con 3, 2, 1, anche nessuno, il gioco andrà avanti lo stesso, questo lo so perché ho sbirciato i trofei, ma io l'ho completato con tutti i volpini vivi e mi sento figo, anyways, è un side-scroller, le notti durano molto poco, purtroppo, ma sono l'unico periodo del giorno in cui puoi uscire, sostanzialmente, perché di giorno, invece, ci sono molti più umani in giro, cominciano ad arrivare degli umani, gli umani, essendo un setting post-apocalittico, ok, è successo qualcosa di veramente terribile, disastri ambientali, perché il gioco cerca anche di sensibilizzare molto sull'ambiente, infatti fa avvenire un'eco-ansia che, io ce l'ho già l'eco-ansia, ho giocato a handling e mi sto sentendo male, gli umani sono, insomma, diventati ancora più stronzi di quanto ci immaginiamo, sono più che bracconieri, si attaccano praticamente a qualunque cosa, farebbero qualunque cosa anche ammazzare te e i tuoi volpini per sopravvivere, è molto triste, è molto brutto, ma questa cosa ti cercherà di far tenere ancora di più i tuoi cuccioli, cercherai, poi puoi anche coccolarli quando ce l'hai fuori, sono piccolissimi, sono carinissimi, è un po' meno carino il fatto che abbia poco tempo a disposizione quando esci di fuori di notte, perché passano con una velocità formidabile i giorni, però i giorni vanno avanti, sì, sentitevi male, poi vengono anche aggiunte altre meccaniche, alcune meccaniche ce le hanno soltanto specifici cuccioli e prima devi fargliel'attivare in qualche modo, quindi devi esplorare in modo tale da arrivare da quella parte lì, puoi fare amicizia con un tasso, anzi una mamma tasso, che cosa carina, è molto carino, poetico e toccante, dicevo, dura 4 ore, anche meno, a me è durato un pochino meno, e chiaramente se ve ne fregate potete anche tipo speedrunnarlo, mi sa possono essere anche abbastanza facili i suoi trofei, ammesso che siate tipo platinum hunters, e vogliate concentrarvi sul platinum e non su questo piccolo batuffolino, piccolino, abbiamo smesso, questi sono i cuccioli che escono fuori infatti, ma che belli, fanno questa musata che danno nella neve, è carinissima, in ogni caso ho fatto abbastanza avversi acuti per questa sessione, forse no, però, qual è l'esperienza che ti ha maggiormente segnato come videogiocatore, non necessariamente un'intera produzione, anche solo una questline, una sequenza, o una meccanica, qui tocca vedere, non voglio dire mettere dei paletti, però necessariamente trovare i binari adatti, perché per esperienza io magari posso intendere, non so, delle missioni, delle parti di gioco che potrebbero essere spoderose, però questo con il mio caso mi permetterebbe di parlare anche di Spec Ops The Line, cioè chi ha giocato a Spec Ops The Line sa che c'è quella sezione, che è chiaramente quella che fa, che causa scompensi cardiaci ed emotivi alle persone, ed è una fase molto ben riuscita e molto ben raccontata. Spec Ops The Line peraltro rientra in ogni caso nei discorsi, perché di recente, di recente, tipo due mesi fa, ormai o tre, è stato tolto dagli store, quindi è reperibile soltanto in due modi, o trovare una copia fisica per le console vecchie, peraltro, o craccarlo, perché reperire chiavi adesso tipo te le spederanno a una cifra di 1500€, buona fortuna, la chiave digitale che ci fa i cazzi praticamente, e peraltro è stato rimosso soltanto per una stronzata come quella del rinnovo di alcune licenze, cioè 2K non ha rinnovato delle licenze, e per questo Spec Ops The Line non lo vedremo negli storefront, mai più. A volte però succede che per rinnovare delle licenze tolgano il gioco e poi tipo tempo 10 ore magari ricompare, quindi la gente fa gli articoli, notizie, oh mio Dio è sparito il gioco, però no vabbè, succedeva per esempio anche in alcuni Grand Theft Auto, che per tipo un giorno forse erano irreperibili, e poi no, era soltanto il rinnovamento di alcune licenze, perché quelle canzoni reali stando nella radio devono essere rinnovate in qualche modo. Chissà perché non sono state rinnovate in Spec Ops The Line, che è uno dei giochi più fottutamente importanti di quella generazione. Spec Ops takes the cake in questo senso, ma per dire questline o meccanica, c'è una questline molto carina in The Witcher 3, è opzionale chiaramente, è una di quelle che si fa sull'isola di Fike, in paese si chiamava Fike, che è semplicemente una storia molto bella e molto ben raccontata, o una meccanica non saprei onestamente, perché dipende dalla sensibilità, da quanto può colpirmi o meno una meccanica. Posso dire, non so, il Nemesis System dell'Ombra di Mordor, l'Ombra della Guerra, è figo e fierissimo che puoi trovare gli urchi fatti in questo modo, che poi ti ridanno la caccia se sopravvivono, poi ritornano con dei perk differenti, in base a come sono morti, in base alle battaglie che ha affrontato, e quello è assolutamente una figata, ma non posso dire che mi abbia sorpreso, ecco, fino a questo punto. In uno shift di paradigma, potrei dire che sono sorpreso, sono colpito, ecco, dal fatto che delle meccaniche possono essere implementate tramite delle mod, e per esempio non smetterò mai di raccontare quanto sono stato sorpreso, e fregato soprattutto, dal fatto che in Stalker Anomaly, gli artefatti che trovi in giro sono anche molto tanto radioattivi, e ovviamente la meccanica nuova è il fatto che tu per neutralizzare le radiazioni che emettono, quando te li porti, quando li metti in inventario, devi per forza metterle in un contenitore apposito, che neutralizza le loro radiazioni, e se vuoi sfruttare i loro perk, devi metterle in altri differenti contenitori, che ti permettono di neutralizzare una soglia, oppure la totalità delle radiazioni che emettono, e metterti alla cintura, così puoi sfruttare il loro bonus o il loro malus, per esempio ripristinare la stamina più velocemente, questa è una figata, cioè Stalker di base, dici ok vai lì, prendi l'artefatto, ci ha autonometti in tasca, è bella per te, i modderi invece li hanno resi radioattivi, li hanno resi un effettivo problema, a cui devi pensare, come se l'atto di reperirli, non fosse già abbastanza un casino, soprattutto nelle mod hardcore, come l'anomale, anche e soprattutto perché gli artefatti esponano soltanto in delle anomalie, in dei campi anomali, grossissimi, pericolosissimi, e tu devi, praticamente a tutti gli effetti, navigarci all'interno, per non farti colpire dalle radiazioni, dalle radiazioni, oddio, quella cosa minore, dalle anomalie, tipo quelle anomalie pirogene, le anomalie chimiche, le anomalie che ti fanno volare, o ti intrappolano in un vortice, che poi ti spappola, molto carino, è un'esperienza veramente poetica, dignitosa, e per nulla splatter, in parte questa domanda si connette anche a quest'altra, e cioè se dovessi citare i tre giochi, che ti hanno colpito più profondamente quali sarebbero e perché, e per l'appunto, Spec Ops The Line avrebbe una menzione, la risposta è più o meno sempre la stessa, perché quella sezione lì, ma in realtà un po' tutta la narrativa che ci sta sotto, è convogliata in un modo veramente veramente buono, il gioco in sé magari per lo shooting, il movimento del personaggio, alcune colonne sonore, forse non è il top del top, ma il resto lo controbilancia tantissimo, e lo rende uno dei giochi più importanti che sono stati rilasciati quell'anno. Quell'anno che dovrebbe essere il 2012? Fammi controllare. No, il 2011, e che anno che è stato il 2011? Arkham City, Battlefield 3, Dark Souls, Deus Ex Human Revolution, L.A. Noire, Portal 2, Skyrim, Spec Ops The Line, e To The Moon, oh mio Dio che anno meraviglioso, non cito Uncharted 3 soltanto perché Uncharted 3 mi è piaciuto però mica così tanto. Effettivamente citando questi giochi, credo di averne detti almeno altri due addirittura, per rispondere alla domanda, a questi giochi che mi hanno colpito di più. E avrei detto To The Moon, giusto perché è stato il primo gioco veramente indie che ho giocato, però anche lui sempre sulla narrazione, la storia raccontata, vorrei evitare di continuare a citare giochi, soltanto per la loro narrativa e la loro trama, anche perché vorrei evitare, non so, di anticipare troppo, non sarebbe spoiler propriamente, però, no, cioè, mi sento sporco a fare una cosa del genere. Ancora più che nel dire che soltanto il primo Assassin's Creed è un Assassin's Creed, e tutti gli altri sono semplicemente dei giochi di azione e avventura. E infatti, sempre per gli stessi motivi, avrei potuto dire Psychonauts, Stalker, Spec Ops The Line, l'ho detto, Portal 2, Dishonored, Doki Doki Literature Club, che propriamente è l'unico dating sim che ho giocato, però, perché giochi Doki Doki Literature Club? Perché qualcuno ti dice, no, no, fidati, giocalo, non c'entra niente la parte dating sim, giocalo e poi dirai, poi mi dirai, vedrai che, ah, ah, e versi di Loli. Lui è proprio uno di quei giochi che ti richiedono qualcosa, dopo gli... basta. Quindi, Spec Ops The Line, in particolare per la narrazione del tema, ok, non la storia in sé, ma il modo in cui ti fa capire più o meno il PTSD, ma piuttosto il modo in cui ti fa vivere determinate vicende, Psychonauts, il primo, anche il secondo onestamente, però il primo, per la rappresentazione di manie, follie, depressione, e simili altre cose mentali, e Far Cry 2, quando ho capito quello che stavo facendo, perché quello che fa in Far Cry 2, stavo scherzando, giocate di Far Cry 2 però. Il mio terzo pick potrebbe benissimo essere Neuro Automata, per avermi fatto venire voglia di buttarmi di sotto, o Persona 5 per il discorso dell'identità sociale, anzi di la percezione delle persone, delle masse soprattutto. Ma onestamente no, sono forse più combattuto con Persona 3, non saprei? Nel dubbio handling, perché sto ancora causando il colpo. Detto ciò, guardate il video su Yakuza, perché ho resistito nel dire i giochi che ti hanno colpito di più Yakuza, perché... Yakuza... Quindi video bello, importante, e check out anche Stalker e System Shock, e Far Cry 2. Vi ricordo che queste domande sono prese da Discord, e soprattutto che c'è un motivo, se il primo canale si chiama Saper, leggere... Uh, alla prossima!